Al comando porterò sempre per primo la mano sinistra in avanti, poi la mano destra e andrò a inclinare il busto portando la testa a circa 30 cm dalle mani. Il saluto in ginocchio è il saluto più formale, è il saluto che viene utilizzato più raramente rispetto al saluto in piedi. Anche durante le lezioni di karate è frequente, soprattutto nelle lezioni occidentali, nei dojo occidentali, utilizzare il saluto in piedi, ma è molto meno frequente a vedere utilizzare il saluto in ginocchio, il saluto formale. Il saluto formale è un saluto che ha una provenienza storica, risale ai modi e ai costumi giapponesi nelle case tradizionali. Le case tradizionali, come sappiamo, sono formate da tatami in paglia di riso che formano un pavimento all'interno dell'abitazione che poi viene utilizzato per molte attività quotidiane, tra cui il mangiare piuttosto che il dormire, stendendo poi un futon e srotolandolo sullo stesso tatami. Questo costringe e porta la maggior parte delle attività a essere svolte in posizione seduta, in ginocchio, non ci sono le sedie, spesso nella modalità dell'abitazione tradizionale, e quindi molte delle attività vengono svolte in ginocchio o comunque a terra. Da qui il saluto, che diventa un saluto nella posizione in ginocchio, nasce proprio da questo tipo di contesto, in cui sono già in una posizione seduta, in una posizione in ginocchio, e quindi è più semplice inclinare il busto da terra salutando chi entra, piuttosto che una persona che devo salutare, piuttosto che alzarmi in piedi. Questo tipo di saluto nella pratica di oggi è un po' un gesto che richiama in qualche modo l'Oriente, è un po' un fascino anche esoterico, e lo teniamo però come un atteggiamento di massimo rispetto, quindi spesso viene utilizzato o in alcuni dojo all'inizio e alla fine della lezione, quindi difficilmente vedremo questo saluto prima di un esercizio a coppia con un compagno, ma quasi sempre viene utilizzato in contesti più formali, come uno stage dove comunque dovrò effettuare questo saluto a un maestro particolare, piuttosto appunto come in situazioni esami che richiedono maggiore formalità. Ma vediamo come si esegue, anche qui si entra in modalità e usi diversi, che non hanno un giusto o uno sbagliato, ma dipende da quello che siete abituati a fare nel vostro dojo. Io vi dico le due modalità che conosco per andare in Cezanne, e poi vediamo anche le diverse modalità di come si esegue il saluto. Innanzitutto la partenza, ammettiamo di essere all'inizio della lezione, sarà una partenza in posizione allineata con i compagni, o se sono il sensei, davanti ai compagni, e da qui scenderò nella posizione in ginocchio. Due modalità, la prima è quella di andare in accosciata, quindi scendo in accosciata, e vado a portare, per primo il ginocchio sinistro, e poi il ginocchio destro, al suolo, per poi appoggiare il dorso del piede a terra, e andare a posizionarmi con i glutei sopra i talloni. Le mani rimangono sopra le ginocchia, sulle cosce, aperte, quindi con lo sguardo frontale, la testa ben eretta, le spalle belle larghe, quindi petto in fuori, pancia in dentro, come si suol dire anche in occidente. Questa posizione la manterrò fino all'invito di effettuare il saluto, quindi questo formalmente è uno dei modi per scendere in sesanne. L'altro modo, lo vediamo subito, è quello di, partendo o a piedi uniti, o a una posizione di piedi aperti, di andare a scendere posteriormente, sempre per primo con il ginocchio sinistro, e andarla a posizionare direttamente a terra, con il ginocchio e l'avampiede appoggiato a terra, per poi posizionare accanto anche l'altro piede e andare a effettuare in una discesa indietro la posizione finale, andando a trovare con i glutei, appunto i talloni, che avranno le punte degli alluci che si sfiorano rivolte posteriormente, quindi non sovrapponete i piedi fra di loro, ma sono uno accanto all'altro. La posizione delle ginocchia, che scenda in un modo o che scenda nell'altro, è all'incirca di due pugni che dividono le ginocchia, oppure nel caso del gentil sesso, spesso si utilizza la modalità a ginocchia strette. Questo non è un discorso di genere, appunto, che devono avere differenti modalità di posizione, ma è soprattutto derivato da un discorso di come vengono abbigliati, generalmente quando si esegue questo saluto, si indossa il kimono e non il karategi, proprio il kimono tradizionale, che prevede, appunto, questa gonna fasciante molto stretta e molto lunga che impedisce di stare con le ginocchia aperte. Quindi la posizione sarà sicuramente quella a ginocchia molto stretta, perché l'abbigliamento stesso mi impedisce di stare in posizione diversa da quella. Siamo in questa posizione, aspettiamo il comando per il saluto, che può essere dato dal primo della fila, piuttosto che dal maestro, e a quel punto andremo a effettuare il saluto in avanti. Anche questo ha diverse modalità, che adesso andiamo a vedere insieme. Prima di continuare con questo video, mi raccomando, iscriviti al canale karateka.it e attiva la campanella per ricevere altri video come questo. Ci sono diversi livelli di formalità, anche nel saluto in Cezanne, quindi quello più formale, in cui vado a inclinare particolarmente in avanti il busto, che si chiama Saikei Rei, in cui porterò la fronte a 5 cm dal suolo. Questo tipo di saluto, molto prostrato in avanti, lo riserviamo di solito a una massima autorità, è un saluto molto di reverenza nei confronti di chi ci sta davanti, di chi stiamo salutando. Il saluto intermedio, il Futsu Rei, è quello in cui si inclinerà il busto sempre in avanti, portando le mani a terra, e poi vedremo in quale posizione, portando la fronte a circa 30 cm da terra. Ed è quello più utilizzato, è quello che generalmente io ho visto utilizzare all'interno del karate. L'ultimo è quello meno formale, il Senrei, è quello dove si andrà con le mani a scorrere lungo le cosce, quindi a inclinare soltanto di una trentina di gradi il busto in avanti e andare a sfiorare con le punte il pavimento e in questo caso sarà un saluto molto meno formale. Questo tipo di saluto che non si effettua generalmente, appunto quello meno formale, in questa posizione in Cezanne, ma generalmente se non dobbiamo richiedere molta formalità, noi effettuiamo il saluto in piedi, che è il Rizzo Rei, il quale se non lo conoscete vi invito ad andare a vedere il video apposito sempre sul nostro canale, in cui parliamo delle modalità di come si esegue il saluto in piedi. Ma continuiamo con il saluto in Cezanne, quindi da questa posizione andrò a portare le mani a terra che andranno a formare una specie di triangolo con il palmo appoggiato al suolo e la fronte che avrà gli occhi più o meno a limitare di questo triangolo. Quindi al comando porterò sempre per primo la mano sinistra in avanti, poi la mano destra e andrò a inclinare il busto portando la testa a circa 30 cm da le mani. Ovviamente dovrò flettere le ginocchia e cercare di non incurvare la schiena ma di piegare il busto in maniera abbastanza compatta. Tornerò in posizione di attesa con le mani al contrario di come sono scese, quindi scendo prima con la sinistra e poi con la destra e risalgo prima con la destra e poi con la sinistra. Perché scendiamo con le mani in quest'ordine? Anche le gambe hanno sempre quest'ordine, quindi sempre prima la sinistra e poi la destra e poi il contrario quando risalgo. Una storia molto interessante ma farò un video dedicato a questo e prossimamente lo vedrete sul nostro canale perché è una storia abbastanza interessante ma un po' lunga e ci porterebbe fuori dal focus di oggi. Finiamo il saluto. Che sia stato un singolo saluto, più saluti anche qui dipende dalla scuola e dalle abitudini, quindi se è il saluto al maestro, il saluto allo showman, il lato d'onore dove c'è ad esempio il camizza con le foto dei fondatori del nostro stile piuttosto che delle simbologie che comunque sono importanti per il dojo e quindi verso il lato d'onore sarà il primo saluto dove generalmente non si pronuncia niente, non si dice niente. Quindi inclinerò il busto, inclinerò, porterò le mani a terra e effettuerò il saluto senza pronunciare niente, nessun tipo di saluto. Il secondo saluto generalmente è il saluto al maestro, il senseini rei, quindi a quel punto saluto una persona fisica che è davanti e andrò a effettuare un saluto anche con la voce, quindi con le parole. Ci sono diversi tipi, anche qui, di modalità a seconda delle vostre abitudini, sostanzialmente sono due modalità, in una in cui vado a pronunciare delle parole che hanno una traduzione dal giapponese, quindi hanno un senso e quindi generalmente all'inizio della lezione o all'inizio del saluto a un compagno, se si tratta di un combattimento, andrò a pronunciare le parole onegaishimasu. Onegaishimasu sono due parole che hanno un significato un po' difficile da tradurre, ma che più o meno stanno a significare un benvenuto a praticare, quindi è un invito a iniziare bene l'allenamento, piuttosto che iniziare bene il combattimento con l'avversario, l'esercizio a coppie. Questo tipo di saluto viene invece concluso alla fine della lezione o alla fine dell'esercizio, quindi saluto all'avversario, con altre due parole che sono delle parole di ringraziamento. Arigato goza mashta o arigato gozaimasu che sono un grazie mille, grazie tante, che andrò a effettuare ringraziando il maestro e ringraziando anche compagno, oppure se ho fatto un combattimento ringraziando il mio avversario nonché compagno, perché appunto mi ha permesso di allenarmi. Quindi è un ringraziamento. L'altra corrente invece è quella che usa una parola che non ha un significato tradotto dal giapponese all'italiano che è osu. Osu è probabilmente una contrazione di onegaishimasu e per questo vi invito a leggere un interessante articolo che è sul nostro blog che parla proprio di questo, però a prescindere da questo alcune correnti di karate, soprattutto shotokan, kyokushinkai e molte altre utilizzano soprattutto nelle scuole giapponesi, questo ci tengo a dirlo piuttosto che quelle di origine ohinawense, si utilizza questo saluto osu. E quindi al comando sensene in rei inclinerò il busto dicendo osu. E ritornerò nella mia posizione. Questa modalità è quella che in occidente si è largamente diffusa grazie anche all'intervento delle figure giapponesi di scuola shotokan che sono intervenute per trasmettere il karate negli anni 50 nel 1950 e quindi in quel momento questo è stato il messaggio portato da quelle scuole e si è abbastanza inserito all'interno delle scuole di karate che frequentano appunto questo tipo di karate e quindi questo è il saluto che spesso si utilizza durante le lezioni di karate. Personalmente preferisco l'onegaishimasu perché ha un significato vero e quindi lo posso utilizzare con persone giapponesi e capiranno e capiscono quello che gli sto dicendo contrariamente osu. È compreso soltanto nel mondo marziale del karate ma non ha un significato letterale. Da questa posizione mi dovrò rialzare lo farò in maniera contraria come ho fatto per scendere quindi salirò prima con la gamba destra andrò a appoggiare il piede destro in posizione mantenendo il busto eretto e poi spingendo su questo ritornerò nella posizione iniziale con i piedi musubidaci oppure con i piedi uniti ed effettuerò ancora volendo un saluto in piedi un rizu rei per definire ulteriormente il saluto. A questo punto generalmente ci si riposiziona nella posizione di attesa io hoi e se è finita la lezione uscirò dal tatami nelle modalità del dojo oppure se è l'inizio della lezione attenderò i comandi del maestro per iniziare alla grande dell'allenamento onegaishimasu grazie per aver visto questo video e mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere altri video come questo grazie per aver guardato